questo è un oggetto pazzesco avete presente i libri delle risposte quelli che si aprono a caso e che rispondono a una domanda posta al libro stesso ecco questo oggetto era installato dietro la copertina di un libro oracolare medievale come funzionava nella prima pagina del libro c'erano 22 domande il lettore poteva rivolgere al libro una di queste 22 domande e queste ruote gli indicavano a quale pagina avrebbe trovato la sua risposta come funzionava si partiva dalla ruota superiore quella con il fraticello le si faceva compiere un giro completo e poiché col dito il fraticello qui sta indicando il numero 7 il lettore avrebbe trovato a pagina 7 la risposta alla sua domanda ora supponiamo di fare la stessa cosa con un dado è possibile che tirando due volte un dado si ottenga due volte lo stesso risultato questa ruota impediva che questo succedesse perché al prossimo giro alla prossima domanda il numero estratto sarebbe stato diverso 11 e così via e ad ogni giro il numero sarebbe stato diverso dal precedente 19 per 22 volte quindi quello che avete davanti alla riproduzione moderna di una computer medievale che veniva utilizzato per fini divinatori e che funzionava sulla su una base matematica perché le ruote e i denti di questa ruota superiore erano 13 i denti della ruota inferiore erano 22 e poiché 13 e 22 sono due numeri primi tra loro consentono proprio questo effetto che era all'epoca considerato incredibile 22 numeri pescati assorte uno dopo l'altro sempre uno diverso dall'altro rispone iscrivete osserva